segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te per quello che ci deve lasciare breve carlo calenda con lui parleremo rimane sempre alessandro sallusti con noi il tratto culturale che denunciava concita de gregorio che denunciava invece maniera positiva alessandro sallusti con lei lo vorremmo testare sul fronte politico la rivoluzione liberale la destra di silvio berlusconi la destra attuale e il ruolo di chi in quelle in una rivoluzione liberale magari spera carlo calenda ma innanzitutto secondo me quando muore un avversario berlusconi è stato un avversario politico no quello che piacerebbe vedere è la cessazione dell'odio non del fatto che uno è stato contrario molto contrario contadissima il fatto che l'odio finisce con la persona che che muore no e che ha un avversario che muore sulla breccia perché fino all'ultimo ha lavorato si riconoscono delle caratteristiche che berlusconi aveva di straordinarietà alcune positive alcune secondo me negative ma lo si fa con rispetto nei confronti di un avversario che ha dimostrato coraggio fino all'ultimo e se questo paese impara a fare questo è un paese che si riconcilia perché non può essere in guerra permanente anche con le persone quando muoiono non si può fare io penso che la rivoluzione liberale come pensa come ha detto prima salusi ha detto molto bene non c'è stata le chiedo prima di arrivare al al concreto delle sue considerazioni ha detto questa giornata in cui tutti parlano va in qualche misura contestata da che punto di vista no io penso che c'è questo estremo no cioè che chi l'ha odiato deve continuare a odiarlo e anche persone che sono stati su avversari politici scoprono la beatificazione di berlusconi nel mezzo e nel mezzo c'è nel mezzo c'è la verità ma c'è anche la dignità e il rispetto perché vede se io oggi venissi qui a dire berlusconi è il più grande politico di tutti i secoli eccetera magari perché mi interessa quell'elettorato che l'ha votato fare un torto a me stesso in termini di dignità e fare un torto anche a berlusconi salusti c'è la diciamo da una parte lei ha denunciato l'odio di chi insiste dall'altro c'è la tendenza a beatificare non santino che dicevano ieri alcuni commentatori neanche berlusconi avrebbe edificato sicuramente però io credo che questo sia inevitabile se ripercorriamo la storia dei grandi leader politici che sono che sono morti beh la loro parte è anche legittimo che non parlo della loro parte non parlo della loro parte non parlo della loro parte mi sembra naturale cioè dalla sua parte che qualcuno beatifica però attenzione è anche fericoloso questa è anche fericoloso scusate salusti che può diventare un dato politico salusti può diventare un dato politico chi è che beatifica dall'altra parte ma io sono moltissimi io non faccio noi ma quello che sta succedendo è che moltissime persone che sono state avversari che l'hanno anche violentissimamente attaccato per in questo momento seguire un flusso che loro ritengono un flusso giusto del paese che dice ma in fondo questa persona ci ha accompagnato per tanti anni e anche persone che non l'hanno votata da parte di noi in ogni caso comunque è stato stato con noi per una lunga parte di storia dico io il nome no no ma non è quello che pensa lei Matteo Renzi non è quello è un comune è un tratto è un tratto Santoro che racconta non pensavo a questo Santoro che dice mi ha telefonato sulla pace perché è l'unica cosa su cui erano d'accordo lui ha dato un aspetto umano del rapporto con il suo grande avversario un po' quello che le diceva prima Berlusconi ha conosciuto tutti e tutti hanno un aneddoto su Berlusconi io non ho un aneddoto su Berlusconi e a tutti ha dato qualcosa da ricordare ognuno di noi si sente unico per quel rapporto sono d'accordo con Sallusti la parte la sua parte che lo faccia è del tutto naturale l'altra parte dovrebbe avere per diciamo non odiarlo più quelli che lo odiano perché nella morte non si odiano non si continuano ad odiare le persone e dall'altro lato non beatificarlo ma il punto che lei mi diceva è un punto molto più sostanziale la rivoluzione liberale la rivoluzione liberale non c'è stata non c'è stata in parte perché Berlusconi aveva troppi condizionamenti per farla tra cui un condizionamento suo che erano le sue aziende e un condizionamento esterno che è stato un accanimento giudiziario il che non vuol dire che Berlusconi non abbia fatto cose sbagliate ma vuol dire che è stato vittima di un accanimento giudiziario e aggiungo una cosa cercavano tutte le cose sbagliate che aveva fatto ma no ma può essere uno che sta ancora sotto processo non ci sta più ma fino a ieri stava sotto processo per le stragi del 93 adesso io voglio dire avrà fatto delle robe ma dopodiché i comportamenti di un presidente del consiglio possono essere non rilevanti da un punto di vista penale ma sbagliati perché rappresenti la nazione quindi ci sono tante luci e ombre c'è un dato che io credo vada al di là di Berlusconi Berlusconi è stato l'interprete del bipolarismo lo ha fatto nascere in Italia dando rappresentanza a una parte del paese che non l'aveva più e che dall'altro lato aveva una sinistra che aveva rinunciato al comunismo tardi e male e dunque non aveva la credibilità per governare questa cosa questo valore perché è un valore dare rappresentanza si è trasformato poi nell'incapacità in questo scontro per Nanette ci sono i comunisti ci sono i fascisti di far migliorare l'Italia perché l'Italia è costantemente era un'arma che poteva essere utilizzata ma che si è disinnescata proprio per l'ideologia che la faceva nascere Sallusti che ne pensa? Sarei interessato a capire se Calenda ritiene l'elettorato di Forza Italia più contendibile oggi che è orfano del suo fondatore del suo leader al massimo assoluto e se nel caso che la risposta fosse sì se hai fatto un'idea di come poter avvicinarlo questo elettorato io penso quello che sentivo prima gli elettorati non sono contendibili come blocchi monolitici che si muovono oggi noi l'esperienza che abbiamo è che l'uscita dal bipolarismo sono le persone che votano a seconda dell'inclinazione della credibilità delle persone di quello che rappresentano quello che credo è che l'Italia abbia bisogno di una grande area moderata di valori ma risoluta nel riformismo abbia bisogno di uscire dal bipolarismo perché penso che il bipolarismo ha ammazzato questo paese e l'ha reso molto più conflittuale questo non era il progetto di Berlusconi che in quel momento era bipolarista come lo ero io lo eravamo tutti perché era fallita la prima repubblica e il lavoro che io intendo fare è questo e come si compone? beh si compone che se il governo sulla corte dei conti fa una cosa che avrei fatto io io lo dico ha fatto bene a farla se il governo se lo fa una cosa sbagliata faccio una proposta alternativa il pragmatismo come chiave genererà questo una fiducia sul fatto che le cose che diciamo sono in relazione alla realtà e non al pregiudizio ideologico io lo spero poi non ne sono affatto certo ovviamente il pragmatismo come chiave dei moderatismo ma come dire io auguro lunga vita all'attuale classe dirigente di Forza Italia tra l'altro come ovvio che sia ho visto proprio prima di entrare in trasmissione dei sondaggi che sta crescendo sull'onda di questa emozione però io credo che quell'elettorato sia avvicinabile dentro un quadro di grande chiarezza cioè lei detto in altri termini mi permetto di dirle lei deve spiegare agli italiani se lei è di sinistra o se è liberale le due cose insieme non hanno mercato contesterei contesterei questa visione citando non so tanto per dirne un onorberto Bobbio che era un liberale dichiaratamente i liberali possono essere i destri o di sinistra potrei citare Rosselli e tanti altri non lo farò un dibattito culturale che possiamo fare certamente questa sinistra cioè la guida del partito democratico e il movimento 5 stelle di liberale non c'ha nulla questo è pacifico ed è la ragione per cui ma scusi ma non ce l'ha manco questa destra non riescono manco a fare una cosa sui balneari ma di questo parliamo ora dando il benvenuto alla professoressa il liberalismo è proprio orfano in questo paese Elsa Fornero benvenuta professoressa grazie a tutti